Conoscere il fenomeno dell'usura, contrastare i pericoli del sovraindebitamento delle famiglie e dei singoli. Questo è l'obiettivo del volume per un uso responsabile del denaro, manuale anti-usura, presentato durante un convegno promosso dall'Onlus Lascialuppa e dalla Fondazione CRT, cui ha partecipato all'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura del Consiglio regionale. La presentazione del manuale è un momento importante che si pone nel solco di quella che è una collaborazione positiva tra l'osservatorio usura e la Fondazione CRT, che perdura ormai da molti anni e che vuole, anche attraverso pubblicazioni come quella del manuale, porre l'accento dal fenomeno dell'usura a quello del sovraindebitamento. Porre l'accento sul sovraindebitamento è un'esigenza che sentiamo molto anche noi, allargando anche lo spettro dell'indagine dell'osservatorio, proprio perché il fenomeno del sovraindebitamento rischia di essere una bomba sociale che dobbiamo cercare di disinescare attraverso un'opera costante e presente di formazione e di informazione rispetto all'opinione pubblica.